...colori, che stiamo a 50 metri dal termine, è un miopo per lo spallo dello stretto, per Vincenzo Nibali! Questa è una volta, è un apporto, è un apporto, è un apporto che va a chiudere in seconda posizione, che finale, un grandinale quello di questa tappa, 3.57, che finale, un grandinale quello di questa tappa. Siamo! Grazie a tutti. Grazie a tutti.